Ancora nessuna data certa sull'apertura della tangenziale di Morbenio, il nodo decisivo che permetterebbe di dare finalmente alla viabilità valtellinese un assetto nuovo, rimuovendo il suo punto più critico, ovvero l'attraversamento della città del Bitto. Il collegio di vigilanza riunitosi a Milano purtroppo non ha dato la notizia da tutti attesa da tempo. Abbiamo ritenuto di non comunicare una data di fine lavori e conseguente apertura al traffico della strada e rimandare la scelta in attesa delle valutazioni, dichiara l'assessore regionale alla montagna, Massimo Sertori. Quali sono le valutazioni ancora in sospeso? All'origine del ritardo, la tangenziale doveva essere pronta a fine dicembre 2017, poi si era parlato di marzo e in fine del 30 giugno, alcuni aspetti tecnici, detti non conformità, che sono in fase di definizione e che hanno necessità di approfondimenti da parte di Anas e della dita appaltante. Uno stallo che giunge proprio in dirittura d'arrivo, l'opera infatti attualmente, ha un avanzamento lavori del 96%. Anas ha confermato che le fasi di collaudo inizieranno fin da subito, in modo tale che a lavori ultimati la strada potrà essere aperta immediatamente alla viabilità. Preso atto della situazione, aggiunge Sertori, spiace non riuscire ad aprire l'importante strada tanto attesa dal territorio prima di ferragosto. Comunque sarà impegno quotidiano, continuo e costante, affinché tutti i problemi siano gestiti celermente per poter consegnare ai cittadini della provincia di Sondrio la tangenziale. Ci aggiorneremo tra 15 giorni, quando saremo in grado di comunicare una data di apertura. Nel collegio di vigilanza si è parlato anche della tangenziale di Tirano, che ha già ottenuto l'approvazione da parte del Cipe e sta aspettando la registrazione dalla Corte dei Conti. Anas ha comunicato che il progetto esecutivo è in fase di stesura. Sarà convocato un tavolo con col diretti e i soggetti interessati per valutare l'indennizzo delle aree espropriate per realizzare l'opera. Si è parlato anche della pista in fase di realizzazione in Vallespluga, per risolvere la situazione di precarietà viabilistica causata dalla frana di Gallivaggio. La sinergia tra Anas e tutti i livelli istituzionali in gioco, ha detto Sertori, ha permesso la progettazione e l'inizio dei lavori del bypass stradale con tempistiche da record. Siamo confidenti che entro la fine del mese arriveremo all'apertura della strada. Quanto alla provincia di Lecco, attenzione anche allo svincolo di Piona, dove Regione ha messo un contributo di 200 mila euro in aggiunta all'impegno di Anas da 6 milioni. Si tratta di un intervento importante, propedeutico e strategico per gli eventuali lavori di ammodernamento della Galleria Montepiazzo.